Come era il Papa? Come era il Papa, il Papa era un grande collezionista, un appassionato di cultura, di poesia e di arte. Il Papa era un poesia, un poesia, un poesia, un poesia, un poesia, un poesia. Il Papa era un poesia, un poesia, un poesia, un poesia, un poesia. Il Papa era un poesia, un poesia, un poesia, un poesia. Il Papa era una scena civile che aveva già imparato a Bernini, aveva anche caravaggio foto a casa. C'era già qualcuno che conosceva e aveva anche questo ritmo. E per un cardinalo era anche parte del habito, e sicuramente parte della loro rappresentazione, che aveva anche il pontificale. Inoltre a Urbano VIII c'era anche la sua famiglia, c'erano i suoi nipoti, in particolare i cardinali Francesco e Antonio, e l'altro nipote, che rappresentava il ramo secolare, Taddeo Barberini. Tutti furono grandi collezionisti, e Palazzo Barberini a Roma è l'espressione di questo grandissimo investimento in termini di arte, di cultura e di autorappresentazione. Le loro aspirazioni, in termini culturali, appunto nel secolo del barocco, tra il 1623, quando Urbano VIII diventa Papa, e il 1644, quando appunto Urbano VIII muore, le loro ambizioni sono smisurate. Ambiscono appunto a rappresentare, a fare di Roma e di Palazzo Barberini il centro della cultura mondiale. e nelle loro collezioni si trovano appunto pezzi di grandissima importanza. Ci sono dipinti di Caravaggio, ci sono dipinti di Guidoreni, ci sono opere di Poussin, di artisti stranieri e soprattutto ci sono gli artisti di fiducia, gli artisti che più strettamente hanno lavorato per la famiglia agli ordini di Urbano VIII e dei suoi nipoti. Pietro da Cortona in primo luogo, Andrea Sacchi e gli allievi di Pietro da Cortona, Romanelli, Ciro Ferri. Quindi intere generazioni, potremmo dire, di artisti hanno servito la famiglia e in qualche modo hanno concretizzato in termini visivi quello che era il loro progetto ideale, il loro progetto politico-culturale. Palazzo Barberini a Roma è senz'altro il più importante palazzo dell'età barocca. È stato costruito e voluto dalla famiglia Barberini, cioè vale a dire dalla famiglia del Papa Urbano VIII che fu eletto pontefice nel 1623. Maffaeo Barberini, infatti, dopo un lunghissimo conclave fu eletto Papa e fin da subito tentò di comprare per la propria famiglia, ma soprattutto per la propria famiglia, un palazzo in Roma che fosse degno del nuovo status sociale. Maderno progetta un palazzo che ha due ali assolutamente gemelle identiche all'interno delle quali si sviluppa un corpo centrale. Questo blocco trasversale che unisce le due ali è il vero cuore dell'edificio, soprattutto perché all'interno di questo cuore, di questa struttura di raccordo, c'è lo straordinario salone di Pietro da Cortona, che è probabilmente il più grande salone, il più vasto salone che esista a Roma, a parte il Vaticano, in un palazzo principesco romano, un salone straordinario dove i Barberini accoglievano i propri ospiti, dove a partire dal 1635 chiedono a Pietro da Cortona di realizzare questa straordinaria decorazione con il trionfo della Divina Provvidenza, che nient'altro è che l'apoteosi e la celebrazione della famiglia Barberini in questa volta gigantesca stratosferica con il trionfo del pennello e della cultura barocca. Possiamo riaffermare senza ombra di dubbio che il barocco nasce a Palazzo Barberini grazie alla copresenza di questi straordinari architetti, dei principali architetti dell'epoca, Maderno, Bernini, Borromini e di questo straordinario artista che è anche architetto, pittore, ma anche architetto, che è Pietro da Cortona. Allora, senz'altro, Palazzo Barberini in qualche modo ha come modello di riferimento, ha dei suoi modelli di riferimento. I suoi modelli di riferimento sono appunto i grandi palazzi nobiliari della Francia, ma diventa anche un modello di riferimento perché proprio per questa, suppongo, per questa sua valenza politica oltre che architettonica, oltre che decorativa. Tant'è vero che noi siamo qui oggi a Palazzo Barberini, a Potsdam, proprio perché immagino che Friedrich der Zweite, quando si è dovuto ispirare a un palazzo che lo rappresentasse o comunque che rappresentasse la sua visione politica, appunto la sua ideologia, al di là del fatto che forse la leggenda vuole che lui si fosse innamorato di una danzatrice che aveva come nome Barberina e che quindi in qualche modo ispirava, si è ispirato al nome di questa danzatrice che probabilmente fu anche la sua amante e casualmente approdato nel Palazzo Barberini o nei Barberini di Roma, beh però sono convinta e persuasa che se anche, come dire, la motivazione fosse stata di tipo sentimentale, poi si è altrettanto innamorato del significato, appunto, della magnificenza, della regalità di Palazzo Barberini a Roma, che ripeto è un unicum sicuramente per tutta la storia dell'architettura italiana, ma probabilmente anche a livello europeo. Come ha fatto la storia di Roma? Friedrich der Große war fasziniert von Rom, besonders vom antiken Rom, aber auch von der Renaissance und vom barocken Rom. Besonders die Architektur hat ihn da interessiert. Er kannte das allerdings nicht selber. Er hat sich ein Bild gemacht von Rom über Literatur, über Grafiken, die er bekommen hat, die er sich besorgt hat. Besonders zum Beispiel über Francesco Algarotti, ein Italiener natürlich, der ihn beraten hat und der mit ihm über die Architektur diskutiert hat. Sie haben gemeinsam eigentlich Potsdam neu geplant. Und zwar wollten sie Potsdam gestalten wie eine Schule der Architektur, nach dem Muster von Rom. Und dafür haben sie sich verschiedene Gebäude als Vorbild genommen, zum Beispiel den Palazzo Barberini von Maderno und Bernini, und haben das in etwas kleinerer Form nachgebaut. Aber nicht nur diesen Palazzo Barberini, sondern sehr viele, sogar Bürgerhäuser, wurden nach diesem Muster gestaltet in Potsdam. Es gab auch Obelisken, das sind Zeichen der Macht und des Sieges und des Alters einer Stadt. Die wurden hier an verschiedenen Stellen aufgestellt. Oder das Brandenburger Tor. Da war auch ein römisches Portal, ein Triumph-Tor-Muster für dieses Portal hier. Ja, und so kann man durch Potsdam gehen und findet immer wieder die Modelle aus Rom. Er macht einen Ruinenberg mit verschiedenen künstlichen Ruinen, die aussehen, als seien sie schon furchtbar alt. Aber sie sind ganz neu gebaut, nach dem Muster des Forum Romanum. Auch St. Peter war Muster für zum Beispiel Sanssouci, für die Kolonnaden dort. Und er hat natürlich das Pantheon als Muster genommen. Nicht nur für die Kirchen hier, sondern auch als Idee, als Tempel für verschiedene Götter, so hat er das genannt. Friedrich der Große war nicht nur an der Architektur aus Rom interessiert, sondern natürlich auch an der Malerei. Auch seine Bildergalerie sollte eine Schule der Malerei sein, so wie Potsdam eine Schule der Architektur sein sollte. Die Sehnsucht nach der Italienreise, nach dem Süden, das geht zurück auf das 18. Jahrhundert. Eine europäische Reisetradition der Sprösslinge, der fürstlichen, adeligen Familien, aus England insbesondere am Anfang, aus Frankreich, aus Deutschland. Diese Tradition rundet die Ausbildung ab, dieser Sprösslinge, der höfischen Familien. Denn sobald sie zurückkommen von der Italienreise, steigen sie ins politische Leben ein. Das heißt, diese adeligen Reisenden im 17. Jahrhundert sind vor allem interessiert daran, sich rundum zu bilden. Sie sind nicht primär an der Kunst interessiert, sondern sie bauen diplomatische Beziehungen auf. Sie lernen den Umgang mit den anderen politischen Repräsentanten. Das ändert sich dann im 18. Jahrhundert und das geht zurück auf so große Forscher wie Winkelmann beispielsweise, die sich insbesondere dann ja mit den antiken Traditionen oder den antiken Resten der römischen Welt beschäftigen und die dann als Reiseführer, als Ciccerone und als Forscher mit ihren Publikationen diese Kenntnis verbreiten. Und auf den Spuren wiederum kommen immer mehr auch Bildungsbürger nach Rom. Das heißt, der Geschmack verändert sich, die Architektur, Sprache verändert sich in Deutschland, in England, in Frankreich. Das gilt für alle europäischen Länder. Das gilt für alle europäischen Länder.